Aveva 77 anni e deteneva un bizzarro primato, la donna AG più tatuata al mondo. Isobel Varley, originare dello Yorkshire, 93% del corpo ricoperto da tatuaggi, era considerata una vera leggenda nel mondo dei disegni sul corpo. Era apparsa su varie copertine, aveva partecipato a diversi show televisivi e campagne pubblicitarie e si era vista infine riconoscere dal Guinness World Record il titolo di donna senior più tatuata al mondo. Isobel viveva a Stevenage e sul corpo aveva circa 200 tatuaggi, il primo fatto da giovanissima alla fine degli anni 40, dopo essere rimasta folgorata ad una convention di appassionati. Da lì poi l'escalation, il suo preferito, raccontava sempre, era stato fatto quando già era diventata madre e le decorava all'addome con una famiglia di tigri. Curiosamente, Isobel aveva conservato solo palmi delle mani e dei piedi candidi e le orecchie, che però erano decorate da talmente tanti piercing da sembrare a loro volta tatuate, star delle fiere delle convention del settore dove era riconosciuta ed amatissima, nel giorno della sua morte anche il sito della BBC le ha dedicato una galleria di coloratissime foto per ricordarla.